ecco, adesso che sai tutto, dimmi dove è finito il mio bastone in cambio prometto che mi batterò contro cinque uomini di tua scelta ma non dire sciocchezze, dove trovo qualcuno che accetti di battersi contro colui che ha distrutto al satan? allora non mi aiuterai? stavolta non ti chiederò niente in cambio sei grande dopo tutto c'è in ballo la vita del mio povero fratello, no? dunque vediamo abracadabra, abracadabra pare che il tuo bastone sia in quella casa buia, eccomi ci è arrivato fin lì, ma quella è la casa del genio grazie, mamma è un eletto, prima salva il mondo dal male, poi diventa un eroe adesso ha la possibilità di andare dal supremo nessun essere umano ci era riuscito prima d'ora e pensare che io non gli darei due lire a vederlo, sembro un ragazzino qualunque aspettami bastone magico, sto arrivando e poi andremo insieme dal supremo grazie a tutti i nostri spettami